Da febbraio 2023 saranno erogate le maggiorazioni dell'assegno unico universale. A dover avere le maggiorazioni saranno le famiglie con figli di età inferiore a un anno e nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra gli 1 e 3 anni. In particolare sale a 150 euro mensili a nucleo, quindi un aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli. Previsto l'aumento del 50% dell'assegno per i nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di un'età compresa tra 1 e 3 anni, per cui l'importo spettante per ogni figlio aumenta del 50% in base ai livelli di ISEE fino a 40.000 euro. L'aumento del 50% dell'assegno va applicato agli importi secondo le fasce ISEE di riferimento per i nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno. La manovra vuole sostenere anche le famiglie con figli disabili, corrispondendo agli aumenti previsti in base a quanto previsto lo scorso anno. Vincenzo Caridi, direttore dell'Inps, spiega che l'Istituto è già pronto a riconoscere le maggiorazioni e la rivalutazione degli assegni. Si dovrà attendere un ulteriore circolare Inps, che terrà conto anche della rivalutazione dei costi di vita entro la fine di gennaio. Grazie per aver capito.